Prima di andarsene di casa, mio padre disse a mia madre che ero brutta. Che aveva visto adesso nella mia faccia che io non vedevo? Cosa mi stava succedendo? Sta facendo la faccia di mia sorella. Ma che dice? Quello è un mostro. Vittoria. Era brutta. Era bella. Sono Giovanna, zia. Sassi che sei. Entra. Gianni, ma non te lo sei messo il braccialetto? Ma quale braccialetto? Mi sono legato a giro che la tua buona sennata. Gianni, guardali, guardali bene i tuoi genitori. Così no ti pierdo. Papà e pure mamma pensano che mi sto facendo tale e quale a te. Per loro tu sei brutta, sei cattiva. Si può diventare una femmina. Se vuoi crescere, devi fare capo eccesso. Ti la fa male. Io mi sono ritrovata dentro una storia che non era la mia. Che non è mai davvero cominciata. E che nessuno si è mai curato di concludere. Zia, ma perché mi hai detto una bugia? Perché era bella. Che non lo sei. Che non lo sei. Che non lo sei. Che non lo sei. Ti la scavo. Che non lo sei. Che non lo sei. Io mi hai detto. Grazie a tutti.